Previsioni meteo per domenica 13 novembre. A nord nuvolosità in generale aumento, soprattutto sui settori di nord-ovest, contesto tuttavia asciutto senza precipitazioni. Al centro nubi in rapido aumento a partire dalla fascia tirrenica, in estensione ad est entrosera, qualche debole peoggia su Sardegna e Lazio. Al sud tempo ampiamente soleggiato pressoché ovunque, con tendenza a blandi annuvolamenti sulle tirreniche. Venti da deboli a moderati settentrionali, mari da mossi a molto mossi, temperature stazionarie.